Manuele Tarozzi, intanto il tuo cronometro com'è andata? Ieri è stato male, avevo la febbre, oggi ho provato a portare la pelle d'arrivo, che sai che non stavo bene, quindi c'era un bel vento, però penso di aver fatto il mio. Queste prime tappe come sono andate? Le prime tappe sono state bene, anche per la squadra, ho preso la maglia di ciclamino subito in due giorni, adesso punteremo il successo di tappa. Adesso spero di recuperare, io personalmente ero un po' stanco perché avevo preso la febbre e niente, sono ancora due settimane, quindi il giro è ancora lungo. C'è una tappa che ti piace particolarmente? Se ne sono una o due sì, però bisogna avere le gambe perché alla fine ci possono piacere le tappe che vuoi, ma se non hai le gambe fai poco. Grazie.